L'archetipo sulle basi della chimica ci impone una rigorosa attenzione. De Angelis, ho saputo che ieri lei ha respinto più della metà degli studenti. Quanto zucchero ha messo nel caffè? Ma è venuta una grande problematica, un segretario Andeson, un inferno di inferno. Buongiorno, signore De Angelis. Sono Tudisca per annuncio di domestica. Come soon. Grazie a tutti.